I'm weaving a belt and she's weaving a strap for a band. Qua siamo al rancho della Golondrines. Questo è il lampadario con le candele. Questo è un candele. Questo è un pantalermino con le capello di scosso, ed è un magro che sceglie con il crema ogilare. Ecco il suo servizio dei armati della via Construzione delle giocattive di Santa Dio. Noi non sono, è quello che si accresionte. Ciò si avvicini è con la scosso di cacere di Santa Dio. Ciò è un valore belio, Per la scosso di un paese di bambino se ne aggiungi lei. Il sistema di bambino di schossi di bambino di bambino di compara di bambino di bambino di bambino. Grazie. 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 Questa è sempre il ranch della Golondrinas e questo è il mulino grande. Questi sono tutte le canali fatte in legno che portano l'acqua alla ruota. Grazie. 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 Questo è il deposito per la lavorazione delle pelli. Grazie. 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 Grazie.